8 marzo, festa della donna, come Lega però vogliamo passarla e proporla in maniera concreta e non con una mimosa da gettare via dopo un quarto d'ora. Proposta della Lega Nord, depositata nero su bianco in Parlamento, asili nido pubblici e gratuiti per tutti, come in Francia. Ci sono 200.000 bimbi che vanno agli asili nido dei comuni, che costano fino a 700 euro al mese. Noi riteniamo che con le tasse che si pagano si debba poter mandare gratuitamente i nostri, i vostri bimbi all'asilo nido delle nostre città. Dove si trova il miliardo e 200 milioni necessario a coprire questa spesa? Aumentando l'Imu alle banche, aumentando al 20% l'imposta sul gioco d'azzardo e tassando i soldi che gli immigrati mandano ai loro paesi. Sono 7 miliardi di euro che ogni anno escono dall'Italia e più o meno regolarmente vanno in giro per il mondo. Ebbene, tassando queste rimesse incredibili, si aiutano le nostre mamme a essere donne, a poter lavorare, a poter mandare i bimbi al nido senza fare mutui e senza affrontare spese enormi. Questa è la festa della donna che ci piace, non quella delle chiacchiere, non quella della propaganda, ma quella della concretezza. Sfidiamo il governo Renzi su questo. Asili nido pubblici e gratuiti per tutti, oppure sono chiacchiere.